Questa mattina è stata segnata l'ennesima pagina vergognosa di questa maggioranza. In commissione ci sono i sindaci e il manager testa per discutere sulla riapertura dei pipì di Pescino e Tagliacozzo e a margine, all'inizio proprio della commissione, abbiamo chiesto di mettere a votazione i voti della risoluzione che è frutto di un documento a firma di tutti i sindaci per la riapertura H24 di questi presidi. Ecco, il presidente Quaglieri non ha voluto mettere ai voti l'inserimento di questa risoluzione. Una cosa gravissima perché è evidente quanto a poca attenzione stanno prestando su un tema così importante per un territorio grande e vasto come quello marzicano. Tra l'altro c'è stata una pessima comunicazione, pochissima chiarezza. Sulla stampa, nei giorni scorsi, abbiamo letto le dichiarazioni del presidente Quaglieri che diceva che ci sarebbe stata la riapertura H12 il 16 giugno. Invece, in realtà, qualche tempo prima il consigliere Angelo Santa aveva dichiarato che i due presidi sarebbero diventati prima Covid Hospital, poi post-Covid. Insomma, nulla di tutto questo perché nel momento in cui ha parlato il direttore testa ha detto che per il momento non ci sarà nessuna riapertura dei presidi di Pescina e Tagliacozzo. Quindi l'ennesima beffa danno dei cittadini marzicani e quindi noi continueremo questa battaglia a loro sostegno.